Una delle cose che più mi manca in questo periodo di quarantena è il progetto Holden Classic, grazie al quale nel corso degli ultimi due anni ho girato un po' per tutta Italia nelle varie scuole incontrando i ragazzi dei licei per confrontarmi con loro a proposito di questo oggetto narrativo misterioso e potente che è il classico, i classici della nostra letteratura che molto spesso nell'immaginario degli studenti si trasformano nell'idea di un mattone, di qualcosa di noioso, di qualcosa di così morto e invece c'era in particolare un libro che è uno dei miei romanzi preferiti che riusciva sempre a scardinare questo luogo comune e che ancora sembrava così incredibilmente vivo e che ancora molto riusciva ad arrivare ai ragazzi come qualcosa che parlava esattamente di loro, del loro modo di vivere la vita nella stagione dell'adolescenza. Sto parlando di una questione privata di Beppe Fenoglio che è un romanzo che piace molto ai ragazzi perché tra le altre prodigiose cose che fa questo libro, al di là dell'ambientazione, al di là della tematica tanto cara a Fenoglio della fine della seconda guerra mondiale e della guerra partigiana, è un libro che è riuscito a mettere nelle pagine, a cristallizzare l'esperienza stessa della giovinezza, l'ormone di essere giovani, di vivere la vita con tanta furia, con tanta forza, con tanta follia ed è qualcosa che arriva ancora oggi intatta ai lettori giovani che affrontano la lettura di questo libro e riescono davvero a trovare qualcosa di loro perché i ragazzi così come tutti i lettori quando affrontano un libro e lo fanno anche per il piacere oltre che per il dovere della scuola lo fanno volentieri se nel libro trovano qualcosa che è loro, non solo se trovano qualcosa che è dell'autore e in questo libro questo meccanismo funziona sempre, funziona sempre anche con me, questo è uno dei miei romanzi preferiti ed è anche un romanzo che ho sempre un grandissimo piacere a rileggere e che ogni volta che riprendo in mano e ricomincio a leggere devo leggere con la stessa furia e determinazione del protagonista tutto quanto se riesco fino alla fine perché appunto ha cristallizzato perfettamente una stagione della vita in maniera precisa oltre a essere stato una grande testimonianza di un momento storico e di un'esperienza storica che quella partigiana, un'esperienza che veniva dalla fine della seconda guerra mondiale che appunto nasceva anche da tutta quella serie di narrazione all'inizio anche orali, da tutta quella voglia di raccontare che c'era in una generazione che ha vissuto una grande, tragica, ma anche eroica esperienza di vita e che quindi sentiva il bisogno all'inizio appunto di raccontarla ma soprattutto poi di trasformarla in qualcosa che fosse letteratura, che fossero romanzi, che fossero racconti e però questo libro arriva anche a concludere questa esperienza. Prima però di iniziare un po' a riraccontare questo romanzo così come facevo con i ragazzi partivo sempre da un altro libro, il libro di Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, ma in particolare più che da questo libro che comunque è un libro scritto da Calvino diciamo in tempi anche più vicini a quell'esperienza, sempre da quell'esperienza magari però dal punto di vista più di un bambino quindi quasi favolistico rispetto invece a la scelta dell'adolescenza che verrà fatta in una questione privata. Ma la cosa interessante ed è anche una cosa che getta subito luce su molti aspetti importanti di quel libro viene dalla prefazione in cui Calvino dimostrando tutta quella che è la sua grande generosità di scrittore sapienziale e conoscitore di tutto quello che gli succede intorno e di tutto quello che gli scrittori scrivono intorno a lui cosa non così scontata perché ci sono stati tanti altri grandi scrittori che invece non avevano piacere a parlare dei libri degli altri e invece Calvino dovendo parlare di un suo libro, dover scrivere la prefazione a un proprio libro a un certo punto non riesce e sente forte il bisogno di parlare di una questione privata perché si rende conto che mentre in lui come in tanti altri scrittori quella vena, quel bisogno di raccontare quell'esperienza era venuto un po' a mancare c'è stato qualcuno che l'aveva continuata e allora vi leggo il passo molto celebre che appunto in questa prefazione Calvino utilizza per parlare con tanta passione del libro di Fenoglio. Ma ci fu chi continuò sulla via di quella prima frammentaria epopea ovvero il racconto dei partigiani in genere furono i più isolati, i meno inseriti a conservare questa forza e fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato quando nessuno più se l'aspettava Beppe Fenoglio e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo, una questione privata e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei 40 anni il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che è una stagione compiuta solo ora siamo certi che è veramente esistita la stagione che va dal sentiero dei nidi di ragno a una questione privata una questione privata che ora si legge nel volume postumo di Fenoglio un giorno di fuoco dove era stato pubblicato all'inizio ma adesso si legge come il romanzo a sé e almeno così viene pubblicato e proposto è costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavalereschi inseguimenti come l'Orlando Furioso e nello stesso tempo c'è la resistenza proprio com'era di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti è la commozione, è la furia ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive ed è un libro di parole precise e vere ed è un libro assurdo, misterioso in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché è al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione non al mio, e questo dimostra ancora una volta la grande generosità di Calvino e allora con queste parole affrontiamo questo romanzo e facciamo un piccolo viaggio all'interno capitolo per capitolo di questa storia appunto così sgangherata se volete perché non è la storia di un partigiano non è una storia di un atto eroico di un partigiano, sì dentro ci sono anche tutti questi elementi, ci sono tanti piccoli racconti e c'è davvero la possibilità leggendo questo libro di rivivere con precisione, sentire l'umidità rivedere quella nebbia che copre tutte quante le colline sentire il pericolo e anche vivere tutto quanto l'orrore della guerra anche dal punto di vista di quello che essendo guerra viene fatto anche dai partigiani c'è tutto questo con una grande sincerità con quella schiettezza, quella mancanza di pudore che è necessaria quando si fa letteratura con l'autofiction e che non ha nulla a che vedere con la retorica di guerra che molto spesso contraddistingue il racconto di una parte, la parte vincitrice che fa comunque di quell'esperienza appunto per raccontarla eroicamente allora diventerebbe qualcosa di noioso qualcosa di insostenibile invece qui c'è appunto una questione privata una questione amorosa che prende e ha la meglio su tutto quanto quello che è il contesto storico della storia con la S maiuscola che c'è intorno allora partiamo dall'incipit come ci viene presentato questo partigiano la bocca socchiusa le braccia abbandonate lungo i fianchi Milton guardava la villa di Fulvia solitaria sulla collina che degradava sulla città di Alba il cuore non gli batteva anzi sembrava latitante dentro il suo corpo e quindi vediamo questo Milton questo partigiano che viene presentato del tutto privo di forze il cuore non gli batte allora lui ha bisogno di ricaricarsi ha bisogno di qualcosa che gli dia l'energia per continuare a affrontare questo momento terribile della sua vita e questo centro che poi è il centro di tutto il libro ha un nome del Fulvia una ragazza di Torino che lo aveva conosciuto prima aveva frequentato e di cui si era perdutamente innamorato allora insieme a un altro compagno Ivan che gli dice senti ma qui stia in guerra non è che puoi andare in giro per i fatti tuoi perché gli fa una domanda importante perché hai deviato sarà tutta una storia di una deviazione da quello che dovrebbe essere il suo compito preciso però lui ha bisogno di andare lì ha bisogno di qualcosa che gli dia anche la forza per accettare tutto ed è detto già nella prima pagina perché lui sa che il giorno stesso che la guerra finisce correrò a Torino a cercarla e quindi Fulvia è lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria e allora lui dice dammi 5 minuti ho bisogno di gironzolare in questa villa che è stato il posto dove tutti quanti i loro incontri tutti quanti le loro discussioni tutte quante le loro poesie lette e tradotte tutta quanta la musica che hanno ascoltato insomma è stato lì il teatro di tutti questo di questo amore che in realtà è un amore del tutto platonico non è successo assolutamente nulla tra loro e c'è una cosa molto bella che Ivan si stupisce già è stupito di questa di questa cosa molto strana perché Milton poi era un partigiano bravo un partigiano che non non si lasciava prendere mai dal panico in battaglia e lui le dice ma come cammina in tanti anni non l'ho mai visto camminare così come se camminasse sulle uova allora è completamente andato e viene riportato in questo luogo grazie anche ai cinque sensi che sono sempre presenti nella scrittura di Fenoglio uno scrittore che non è solo grandemente prettamente cinematografico è una scrittura molto semplice che per questo arriva molto diciamo ai ragazzi con una scrittura precisa essenziale ma nelle sue descrizioni sono presenti sempre tutti i sensi allora allora si ricorda di quanto erano note belle le ciliegie della primavera del 42 e soprattutto si ricorda di Fulvia che le raccoglie arrampicata su un albero e anche quando ha finito di raccogliere ancora aspetta lì sopra e lui pensa maliziosamente forse perché vorrebbe che io andassi sotto a sbirciare Fulvia che raccoglie le ciliegie e qui partono questi flash di flashback di memoria di questi incontri che poi saranno una costante di tutto il libro sempre costantemente in tutto il libro l'unico pensiero di Milton non è la primavera della pace che invece è quello che è nella testa tutti quelli che lo incontrano i civili che aiutano i partigiani ma quando è che finirà quando è che potremmo dire che è tutto finito lui insomma dà delle risposte ma tutti sono preoccupati da quello aspetto lui si è anche preoccupato ma perché appunto può tornare da Fulvia almeno all'inizio pensa che il problema è solo quello allora questi flashback che appassionano tantissimo anche i lettori giovani sono le loro diciamo le loro cose meravigliose che si dicono allora intanto sappiamo subito che Milton è brutto e viene descritto come brutto alto scarno curvo di spalle allora e allora Fulvia cosa gli diceva sei brutto hai occhi stupendi la bocca bella una bellissima mano ma complessivamente sei brutto ma non sei poi così brutto come fammi a dire che sei brutto che l'aveva appena detto lei lo dicono senza senza riflettere e e allora viene descritto questo rapporto come appunto diceva Platonico un rapporto di lettere che lui scrive e dice che non ne può più fare a meno lui di scriverle e lei di riceverle viene fatto attraverso le poesie lui lui il motivo per cui diciamo l'aggancio con questa ragazza che è molto brava in inglese allora gli può tradurre tutti i testi le poesie che arrivano dall'America e e allora oltre a questo gli scrive delle lettere e allora guardate questi sono dei passaggi che consiglio ai ragazzi di sottolineare perché sono cose che qualsiasi ragazza vorrebbe sentirsi dire lei gli dice scrivimi queste lettere e gli dice comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà forse le mie nipoti quando avranno questa mia età lui pensa subito e oppresso dall'ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue nel futuro e allora gli dice come comincerai la prossima lettera Fulvia splendore davvero sono splendida no non sei splendida non lo sono sei tutto lo splendore e anzi poi continuo avanti ad esempio lui dice guarda tu come come dici le parole mi è sembrato di sentire la pronunciare la parola splendore per la prima volta gli fa Fulvia e lui non è strano non c'era splendore senza di te e allora diciamo che c'è un rapporto anche in qualche modo lui gli procaccia cultura poesia musica racconti e allora gli dice ma tutte le cose che mi dai perché questo Milton capiamo subito non essere proprio una persona brillante allegra dice ma le cose allegre non me ne porti mai e lui gli dice questa è la descrizione del personaggio in una frase le cose le cose allegre non mi vengono sott'occhio credo che scappino da me le cose allegre e questo ce lo dà diciamo ce lo dà subito come personaggio con una pennellata in questo suo essere malinconico allora lui in questo momento è è solo nel giardino no e a un certo punto ripensa quanto tempo è passato l'esperienza che lui ha vissuto e poi dice pensa rivolgendosi sempre a Fulvia sono sempre lo stesso Fulvia ho fatto tanto ho camminato tanto sono scappato e inseguito mi sono sentito vivo come mai e mi sono visto morto ho riso e ho pianto questa in poche righe è l'esperienza dell'essere partigiano ho ucciso un uomo a caldo ne ho visti uccidere a freddo moltissimi ma io sono sempre lo stesso e forse proprio quello che gli aveva impedito di impazzire quello che gli aveva permesso di rimanere sempre se stesso era proprio quest'amore era proprio Fulvia che in qualche modo rappresenta nella sua interezza la vita di prima la vita di prima della guerra e però poi nel secondo capitolo arriva un personaggio fondamentale perché tutto sommato se non ci fosse stato questo personaggio il libro sarebbe finito qui ovvero sarebbe stato tutta un'altra narrazione perché ci sarebbe stato appunto questa possibilità di ricaricarsi con questi ricordi di questa spinta emotiva a continuare a lottare a combattere fino alla vittoria però compare questa vecchia la governante della casa già ai tempi di quando c'era Fulvia che dopo va via e quindi lui arriva in questa villa che pensa disabitata invece c'è ancora questa vecchia allora loro si riconoscono lei è un po' preoccupata perché è un partigiano quindi rischia comunque che potrebbero arrivare i fascisti da un momento all'altro però ci parla e nonostante la preoccupazione gli dice lui allora fammi entrare così rientro anche nella stanza dove passavo del tempo con Fulvia è una cosa importante per lui lei lo fa entrare e qui ci sono nuovi ricordi e c'è il punto proprio anche più alto tra tutti quanti flashback di questa relazione che lui a un certo punto è quella che diventa quasi la colonna sonora di tutto il libro c'è una canzone celeberrima famosissima che era di quegli anni ma che poi è diventato uno standard di tantissime cover lui sente filtrare questa musica ancora di nuovo i cinque sensi che sono presenti in tutto il libro sentivo filtrare sentiva filtrare attraverso la porta la musica di Over the Rainbow quel disco era stato il suo primo regalo a Fulvia e Fulvia dopo che glielo regala lo suonarono per 28 volte e lui dice ma ti piace? e lei dice una definizione meravigliosa che è anche una definizione meravigliosa di qualcosa quando è che ci piace un libro un libro bello è un libro che ci dispiace perché è finito e lei gli dice mi piace da svenire quando finisce senti che qualcosa è veramente finito è una definizione magnifica che da Fulvia insomma di qualsiasi opera d'arte che a un certo punto finisce un libro un film una canzone allora quella è la loro canzone e poi lui continua a ricordare a ricordare questo rapporto anche nei momenti in cui lei si ribellava perché lui era serio gli portava sempre testi importanti vengono citati poi molti di questi testi sono stati effettivamente tradotti da Fenoglio lei gli dice basta a un certo punto non mi parlare più mi fai piangere le tue bellissime parole servono solo riescono solo a farmi piangere sei cattivo mi parli così questi argomenti di cerchi di sviluppi solo per farmi per vedermi piangere no non sei cattivo ma sei triste peggio che triste sei tetro almeno piangessi anche tu sei triste e brutto e ritorno anche sull'aspetto fisico e però a un certo punto no si inizia a parlare anche con la governante dice che qui stavate sempre a ballare si esagerava al ballo non doveva essere però qui compare un altro personaggio perché non era lui che ballava con Fulvia ma era il suo amico Giorgio e qui viene presentato il terzo vertice no di questo triangolo amoroso che per forza di cose per essere triangolo deve avere almeno tre personaggi e quindi abbiamo Milton innamorato di Fulvia ma poi c'è il suo amico oltretutto l'amico che gliel'ha presentata no allora lui non ballava con lei perché lui non sapeva ballare non aveva voluto lui è tetro quindi quelli tetritisti non ballano guardano gli altri che ballano allora lui faceva il macchinista e invece il suo amico Giorgio ballava e guardate già da prima che arrivi l'informazione da parte della vecchia il lettore leggendo questa questa pagina già capisce tutto e quindi già le informazioni che poi saranno così importanti per Milton sono già presenti al lettore subito perché lui lui dice allora che non ballava faceva insomma il macchinista la definizione era di Fulvia sveglia macchinista viva il macchinista Fulvia ballava spessissimo con Giorgio Clerici duravano anche per 5 o 6 dischi consecutivi slacciandosi appena negli intervalli Giorgio era il più bel ragazzo di Alba ed era anche il più ricco ovviamente il più elegante nessuna ragazza di Alba era in condizioni di far da Pendant a Giorgio Clerici arrivò da Torino Fulvia e la coppia perfetta fu formata ce lo dice già lui no in questo no Fenoglio scrive in terza persona ma è quasi sempre per tutto il libro tranne in un momento importante nel finale sempre nella testa del personaggio di Milton che già ha insomma alcuni elementi per fare uno più uno uguale due e arrivò da Torino Fulvia e diceva fu formata la coppia perfetta e quindi c'è la descrizione poi di Giorgio come un ragazzo molto bello molto elegante tutto il contrario di quello che poteva essere Milton e a un certo punto però lui dice non si era mai arrabbiato che lui ballava con la donna che amava solo una volta si era irritato ma una volta che Fulvia dimenticò di stralciare dalla serie dei ballabili Over the Rainbow glielo fece osservare durante una pausa e lei prontamente abbossa gli occhi e mormorò hai ragione e qui sia perché è il suo insomma è la loro canzone ma sia anche un po' perché è un lento molto romantico e quindi poteva dare fastidio che la ballasse con Giorgio ma poi c'è un altro elemento che qui è una cosa che mi fece molto ridere ma che può essere un'altra chiave per proporre la lettura come appunto a delle persone giovani come qualcosa che parla di loro questo pezzo secondo una ragazza di un liceo diceva questo guardi questo è il perfetto manuale per non essere frenzonati questo neologismo la frenzono è vero quando una persona quando una ragazza decide che un ragazzo non è all'inizio della loro conoscenza non è un possibile fidanzato un possibile ragazzo ma che è un amico e prende quella decisione e poi non si smuove più allora c'è questa descrizione in cui si vede anche proprio l'impaccio che ha Milton un giorno erano soli Fulvia caricò il fonografo con le sue mani e mi si over the rainbow che è la canzone è il dirt dancing della situazione è la canzone vietata che non si può ballare avanti balla con me lui aveva detto forse gridato di no devi imparare assolutamente con me per me avanti non voglio imparare con te ma già lo teneva lo spostava nello spazio libero e spostandolo ballava no protestò lui ma era così sconvolto che non riusciva nemmeno a tentare di vincolarsi e soprattutto non con quella canzone ma lei non lo lasciava e lui dovette badare a non inciampare e rovinarle addosso devi disse lei sono io che lo voglio io voglio ballare con te capisci sono stufa di ballare con ragazzi che non mi dicono niente io non supporto più di non ballare mai con te e qui qui era il grande momento in realtà che Milton avrebbe dovuto secondo l'interpretazione di molte di molte studentesse era il momento di Milton e lì lui doveva ballare e però perde quel momento e quindi si perde la possibilità che nasca appunto una vera relazione non più platonica poi ad un tratto proprio mentre Milton cedeva quindi proprio per un secondo è andata male lo abbandonò rilasciandogli forte le braccia contro il corpo va a morire in Libia gli disse tornando al divano e qui c'è secondo me l'insulto più bello di tutta la storia della letteratura di sempre gli dice sei un ippopotamo un ippopotamo magro perché effettivamente l'ippopotamo non è bello però almeno è grande grosso e simpatico invece l'ippopotamo magro secondo me è proprio la cosa peggiore che si possa dire a una persona però questa è ancora la parte di flashback invece la vecchia governante di questa villa fa qualcosa di sconsiderato qualcosa anche di gratuito che davvero poi Ivan che capirà un po' le cose e dirà ma perché l'ha fatto perché a uno in guerra vai a fare una cosa del genere evidente che Nilton è rinnamorato di Fulvia e lei cosa gli va a dire gli va a insinuare il dubbio ma glielo dice sostanzialmente raccontandogli anche dei momenti in cui gli dice guarda io quando venivi tu da solo ero tranquilla quando veniva Giorgio no e perché non eri tranquilla voi parlavate loro non si sentiva niente poi a un certo punto hanno preso uscire la sera sul tardi a fare sempre più tardi allora in pratica la vecchia gli dice senza lei dice non dico che abbiano fatto il male ma gli dice poi molto curioso come la possibilità di una relazione dal suo punto di vista sia il male e comunque gli dice gli dà questa informazione che il suo migliore amico e la donna di cui lui era innamorato senza mai essersi dichiarato oltretutto ragazza che gli era stata presentata dal suo amico al quale probabilmente non aveva detto neanche neanche a Giorgio che era innamorato di Fulvio quindi non aveva non è un tradimento lui viene solo a capire una realtà che oltretutto era una realtà che il lettore aveva già intuito da quello che lui sapeva quindi era qualcosa che in fondo doveva sapere anche lui aveva completamente cancellato tutte queste informazioni in questo amore platonico in questa illusione che però era la sua forza torniamo alla domanda che gli fa all'inizio Ivan perché hai deviato era quella calamita che gli permetteva di non deviare di affrontare tutto l'orrore della guerra partigiana che poi della guerra in generale che poi sarà presente in tutto il libro attraverso tante immagini di compagni partigiani tante piccole microtrame che sono presenti nel libro e qui parte la follia la furia qui è l'Orlando furioso da questo momento in poi a Milton non importa più niente dei partigiani della democrazia della dittatura del fascismo della seconda guerra mondiale non gli importa più di niente di nessuno se non di sapere se quello che gli aveva detto la vecchia è vero oppure no e qui parte un viaggio dell'eroe un viaggio dell'eroe attraverso i vari appostamenti i vari campi e innanzitutto parte veramente come un pazzo addirittura sta per salire su un un ponte che è minato che dovrebbe sapere che è minato ma non ci pensa glielo deve dire l'amico che lo vede correre perché vuole tornare immediatamente da Giorgio e allora perché vuole sapere se è vero però Giorgio che per tanto tempo erano stati partigiani insieme è stato mandato da un'altra parte e quindi lui arriva e chiede subito un permesso perché ha bisogno di andarci a parlare e qui comunque già ci arriva una diciamo anche una descrizione molto viva di quella che è la grande differenza tra un esercito di resistenza e un esercito vero soprattutto i partigiani azzurri quelli di cui faceva parte appunto Milton si partiva dal principio che uno è partigiano perché decide di esserlo non perché è in un esercito e quindi sì ci sono i gradi ci deve essere un minimo di coordinamento e un minimo di rispetto degli ordini perché è una guerra per combatterla c'è bisogno di queste cose però c'è molta più libertà proprio perché sono soldati volontari c'è la possibilità di andare via e di tornare soprattutto nella parte diciamo dei partigiani azzurri e allora lui ne approfitta e dice guarda io devo andare a parlare con Giorgio e quindi si prende questa giornata di permesso questo giorno e mezzo dice vado e torno per domani invece partirà per un viaggio molto lungo perché poi quello che succede più avanti intanto c'è c'è una caratteristica che pervade tutto il libro c'è sempre oltre che la descrizione di questi posti descrizione molto precisa di posti realmente esistenti c'è però sempre l'aspetto meteorologico anche questo inevitabilmente molto simbolico c'è una nebbia che copre tutto come latte che non permette di vedere le cose allora Giorgio diventa un oggetto misterioso anche lui che non si riesce più a trovare lui arriva chiede agli amici partigiani che erano in missione con lui che fine abbia fatto è rimasto dietro nella nebbia scopre che hanno litigato perché Giorgio comunque che viene descritto da tutti come bello viene descritto da tutti come elegante viene descritto come il partigiano che dorme col pigiama di seta buttato in una stalla e quindi non è proprio simpaticissimo a tutti viene appunto si scopre che ha litigato ma soprattutto non ritorna allora lui a un certo punto a un certo punto si preoccupa sempre di più di questa mancanza fino a che scopre che il suo compagno quello che era in fondo il suo migliore amico è stato preso dai fascisti proprio grazie a questa terribile nebbia e allora la cosa che colpisce almeno che a me colpisce di più è che in lui non c'è assolutamente mai il problema che il suo amico è stato catturato il problema è che la cattura dell'amico gli impedisce di sapere la verità su Fulvia e allora diventa veramente sempre più folle no? c'è una possibilità che loro hanno una volta che sanno che Giorgio è stato preso è quella di proporre uno scambio e anche questo è un modo per conoscere in maniera letteraria quelle che erano le dinamiche della guerra di resistenza c'è la possibilità se loro avessero avuto un prigioniero fascista tenuto da qualche parte potevano proporre uno scambio attraverso l'utilizzo di un prete che avrebbe fatto avrebbe creato la possibilità di questo scambio che poi è un scambio pericoloso perché molto spesso erano trappole per ammazzare i partigiani però non hanno nessuno allora lui inizia decide di andare da tutte le parti ma anche dai partigiani rossi che insomma lui dice è molto difficile che abbiano un prigioniero perché in genere li ammazza lui arriva tardi perché un prigioniero ce l'avevano ma l'hanno fatto fuori poco tempo prima anche lì c'è un racconto molto bello di questa esecuzione dell'assurdità perché c'è un partigiano che comunque che racconta questa storia che vorrebbe creare un minimo di d'incontro empatico con questo fascista che deve morire quello dice no io morirò gritando viva il duce allora c'è anche una riflessione sulla figura di Mussolini come di un uomo di un codardo per il quale sono morte tante persone e però appunto arriva tardi e allora cosa gli viene in mente nell'apice della follia ma guardate non lo fa per salvare l'amico lo fa e anche quando pensa l'avranno fucilato o non l'avranno fucilato unicamente il suo pensiero è se lo fucilano io non potrò più sapere la verità e allora lui decide di fare l'unica cosa che può fare se non c'è un prigioniero allora lo faccio io un prigioniero allora si sposta decide dove posso andare a trovare qualcuno un fascista da catturare ci sarebbe la possibilità di Alba di Asti o di Canelli però Alba è dove vive lui e quindi non vuole tornare lì perché se poi va male non vuole che non vuole finire male vicino a casa sua Asti è troppo lontana rimane solo Canelli e quindi parte questo viaggio questo viaggio complicato lungo perché poi incontrerà veramente i fascisti che lo costringeranno a fare un giro ancora più lungo e a un certo punto c'è un altro e nuovo diciamo oltre che a tanti altri ricordi c'è alcune delle scene d'azione più belle di guerra sono nel capitolo 8 in cui lui è in una pausa di ristoro da una vecchia lui si perde in un ricordo di un combattimento ed è una pagine davvero molto molto belle di un vero e proprio scontro che vede insieme partigiani rossi e azzurri contro i fascisti e però lui a un certo punto dice come farò a catturare un fascista solo ha una una botta di fortuna che di nuovo c'è una vecchia che si presenta lui incontra nella sua vigna gli dà un'informazione un'informazione utile a catturare un fascista di nuovo un'altra questione privata entra in gioco perché questo fascista gli dice questa vecchia va sempre a trovare una ragazza che è la sua amante ma in realtà anche qui la grande capacità di creare dei personaggi che compaiono passano in poche pagine e gli dice guarda io ti potrei dare il filo per prendere il fascista che cerchi un sargente quindi pure buono per uno scambio questo sargente gli dice questa vecchia che lui incontra per caso viene spesso dalle nostre parti quasi ogni giorno e sempre da solo ci viene per una donna una sarta una nostra vicino e purtroppo una nostra nemica una nostra nemica ma poi in realtà si capisce proprio una nemica personale che gli dice guarda sia chiaro che io non ti informo per far dispetto a lei ma solo per aiutarti a salvare il tuo compagno e invece proprio il contrario questo pur perché non gli dovrebbe non gli importa niente a Milton di queste informazioni accessori che però fanno capire come l'altra questione privata viene e crea poi crea dei morti sostanzialmente per come andrà lo sviluppo della storia questo pur con tutto il male che ha fatto a noi e particolarmente mia figlia è una lurida l'hai già capito e questo che fa adesso con questo sergente poco o niente in confronto a quello che ha fatto prima basti dirti che prima dei vent'anni aveva già abortito tre volte gli dice proprio tutta una serie di pettegolezzi è la più porca di Canelli e di tutti i dintorni e non so se girando tutto il mondo se ne trova una più porca ma dove si ma dove ha non gli importa niente lei continua dice guarda aveva messo zagna tra mia figlia e mio genero lui dice non mi importa dammi solo informazioni dice guarda in quella casa questo questo sergente fascista va una o due volte al giorno lui si mette lì e appunto riesce a catturarlo una volta che l'ha catturato dice guarda stai tranquillo da dietro con la pistola io devo fare uno scambio adesso ti porto diciamo lontano da qui organizziamo uno scambio tu per domani a mezzogiorno sei salvo se fai qualcosa per perché io debba ucciderti è come se fosse un suicidio allora la cosa la cosa brutta è che questo tenta di scappare e si suicida in qualche modo lui costretto a sparargli e quindi c'è questo omicidio che è qualcosa che va ancora mettere un'altra ombra di brutalità in questa storia ma ancora con la morte di questo lui vede sfumare ogni possibilità di scambio gli è capitata una cosa fortunata che adesso non può più fare nulla ma ancora una volta il problema non è che l'amico verrà fucilato ha guadagnato qualche giorno perché Giorgio essendo ricco mentre in genere i partigiani che venivano catturati venivano fucilati immediatamente Giorgio essendo di una famiglia ricca ci potrebbe essere intercezione del vescovo grazie ai suoi genitori quindi non si scamperà la fucilazione ma quantomeno viene processato e allora però dice io lui è disperato non sa non sa cosa fare però succede una cosa particolare nel libro che secondo me è una chiave di lettura poi importante dicevo lui torna torna nell'accampamento c'è anche un'altra c'è anche un'altra storia molto bella molto atroce perché poi la cosa bella appunto della mancanza di retorica di questo libro è che mette in luce anche quello di negativo che veniva fatto nella guerra anche dalla parte giusta anche quelli che avevano avevano la parte del giusto i partigiani c'è il racconto che lui sente quando sta tornando che ha fallito la sua missione di questa maestra fascista che andava parlando male dei partigiani e allora i partigiani vanno a farle una lezione addirittura c'è qualcuno che la vorrebbe fucilare e i più tranquilli dicono vabbè è un'esagerazione però gli fanno un atto brutale cioè la rapano a zero e c'è vergogna in loro stessi dopo aver fatto questo gesto ma poi il capitolo 12 è l'unico capitolo il penultimo e quindi davvero molto importante da questo punto di vista il capitolo in cui non è più Milton al centro per tutto il libro noi il narratore ha seguito solo questo personaggio a un certo punto si vede quello che succede per colpa di Milton allora lui ha comunque ucciso un fascista viene ritrovato il corpo del fascista e quindi finiamo in mezzo dei personaggi mai conosciuti prima abbiamo un tenente che è costretto a eseguire un ordine ha presso di lui due ragazzini di 14 e 15 anni Bellini e Riccio Bellini è da un'altra parte devono aspettare che viene convocato subito il Riccio ha ricevuto il terribile ordine di uccidere questi ragazzi che non erano dei veri partigiani erano delle staffette e si vede tutta la disperazione anche del tenente che è costretto a eseguire l'ordine allora qui c'è davvero una rappresentazione narrativa della banalità del male dell'uomo che io sto solo eseguendo degli ordini però non si tira indietro e fa condannare a morte e guardate questa è una delle scene che io adesso vado veloce perché questa scena veramente estraziante quindi riesce sempre a commuovermi perché questo ragazzino che prima cerca di divincolarsi ma come sono tre mesi che sto qui pensavo che non mi avreste più ucciso invece lo vogliono uccidere allora anche qui c'è un'altra un'altra battuta memorabile forse davvero la cosa più commovente di tutto il libro perché il Riccio questo ragazzino di 14 anni deve essere fucilato perché bisogna pareggiare i conti pensate proprio il fatto che lui era andato lontano fa sì che non venga ucciso Giorgio perché vogliono uccidere questi ragazzini perché sono prigionieri dello stesso posto dove c'era il fascista ucciso da Milton e allora c'è questa frase che dice il bambino prima di morire il ragazzino prima di morire lui non ha nulla e prigionirò lì da mesi perché era stato preso con l'altro ragazzo come staffetta partigiana e allora lui dice una cosa che è veramente di un eroismo tenero bellissimo lui non ha nulla ma c'ha un'eredità ancora una cosa disse Riccio in prigione è una torta che mi ha mandato mia madre l'ho appena assaggiata l'ho appena scrostata la lascerei a Bellini ma Bellini mi viene dietro datela al primo partigiano che entrerà nella vostra maledetta prigione guai se lo mangia uno di voi e allora il tenente che ha dovuto dire di fare questa fulcidazione non è stata una sua idea è stata un'idea del comandante però lui la deve seguire seppure a malincuore non riesce ad assistere ed è come se i proiettili di questa mitragliata che uccide il ragazzino in qualche modo uccidessero anche lui e ha tutti i capelli rizzati però rappresenta quello che è il male di chi comunque si rende complice di una dittatura comunque si è reso complice di quello che è successo in Italia ma anche di quello che è successo in Germania poco prima un'altra parte molto bella su quella che sarà poi l'esigenza del racconto di queste esperienze è data dal fatto che un partigiano pensa al fratello che è in Germania allora dice quando torneranno dalla Germania loro racconteranno dal racconto terribile di quello che succedeva in Germania nascerà altrettanta letteratura dice noi racconteremo quello che abbiamo fatto da una parte ci sarà il racconto eroico dei partigiani dall'altro c'era quello terribile dei campi di concentramento e poi arriviamo al finale l'ultima follia di Milton io non posso più chiedere a Giorgio perché non riesco a liberarlo verrà fucilato anche se viene lasciato sospesa la fucilazione di Giorgio dice che posso tornare dalla vecchia all'inizio e quindi il romanzo conclude il viaggio dell'eroe in maniera circolare però lui rischia tantissimo tutto il libro non gli può andare bene anche questo lui vuole tornare dalla vecchia per richiedergli che gliene ha già detto quindi è tutto inutile però lui vuole tornare e allora va lì e in pratica incontra addirittura 50 fascisti armati gli dicono di arrendersi inizia a correre a scappare gli iniziano a sparare ma incredibilmente nessuno la mira per colpirlo e lui dice io sono vivo Fulvia sono solo Fulvia a momenti mi ammazzi ancora pensa solamente a Fulvia anche in questo momento a un certo punto vede un borgo dice devo passare per delle persone per essere sicuro che non è sono già morto e sto correndo morto ha bisogno di vedere gente e di essere visto per convincersi che era vivo non uno spirito che agliava nell'aria in attesa di inciampare nelle reti degli angeli e poi c'è questo finale che molti hanno considerato aperto qui è un altro momento di dibattito se muore oppure no è la grande questione dato che questo è un libro posto ma molto probabilmente non completato definitivamente dall'autore ma forse anche questa incompiutezza è un'altra sfumatura in realtà di ricchezza per questo libro e quindi c'è il finale era perfettamente conscio della solitudine del silenzio della pace ma ancora correva facilmente irresistibilmente poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto come entrò sotto gli alberi questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò e allora il personaggio è morto alla fine di questo viaggio e allora mi viene da tornare all'incipit Milton ci è stato presentato così il cuore non gli batteva anzi sembrava latitante dentro il suo corpo in realtà secondo me Milton era già morto dall'inizio lo teneva in vita solo solo quest'amore per Fulvia ma in realtà a rileggere soprattutto dall'ottica di quello che succede di quello che fa lui ma soprattutto di quello che succede nel capitolo 12 con la fucilazione del ragazzo in realtà forse il vero pazzo non era lui forse lui era l'unico sono di mente perché pensava ancora all'amore mentre invece tutto intorno a lui la follia dilagava la follia della guerra dilagava e forse lui era l'unico a non essere pazzo perché pensava ancora all'amore la follia ho la follia la follia Grazie a tutti.